e ciao qui abbiamo il nostro Piero che dopo ci divizierà con il suo programma teniamo tutto nascosto oppure... eh certo deve essere una sorpresa come tutti gli anni pagherito sempre e sempre grazie a tutti ma anche il Vesta Club Napoli lo sento silenzioso, non è da loro per il 28 giugno dove siamo invitati? il 28 giugno dove siamo invitati? c'è la piazza del Trebiscita, 28 giugno c'è la piazza del Trebiscita ehi papà due date mi devo ricordare no io ce l'ho segnata ce l'ho tutte segnate c'ho la pagina di tutti i raduni di quest'anno in Italia ci sono anche le lambrette al Vespa c'è la piazza del Trebiscita e la piazza del Trebiscita c'è la piazza del Trebiscita c'è la piazza del Trebiscita